Ciao a tutti, bentrovati, spero siete bene. Anche qua ad Amsterdam oggi c'è una bella ondata di caldo, arriveremo a 36 gradi, lo so che non è come 46 da qualche parte da voi in Italia, ma comunque qua dentro in questa stanza fa un caldo boia e quindi niente video di yoga, ma ne approfitto per fare un video da aggiungere alla rubrica delle piante. Come vedi c'è un po' di casino qua intorno a me, o perlomeno per i miei standard questo è casino, perché sto cercando di capire cosa fare, soprattutto perché sto utilizzando questo spazio sempre più per massaggi, lezioni private, cose varie e quindi ogni volta poi mi tocca sistemarmi le piante, spostarmene per crearmi insomma lo spazio che mi serve e quindi adesso sto cercando di ripensare un attimino come utilizzare questo spazio perché ci sono delle cose che non posso spostare, che sono dei proprietari di casa, tipo sto divano enorme che ho qua davanti a me, oppure il mobiletto con la televisione che ho dietro di me, queste robe non le posso spostare, i proprietari non sanno dove mettersele e quindi me le devo tenere qui e quindi devo giocare un pochettino insomma con lo spazio che ho. Quello che tu non vuoi qua è che io qua sopra di me ho dei faretti che non vengono utilizzati perché sono proprio disconnessi, per cui sto pensando magari qualche pianta la potrei appendere, cioè la metto in questi cosini qui, bene, che hanno questo aggeggio qua per poter essere appeso e magari mi servirà metterci un cordino un po' carino insomma e farli pendere, la cosa che non mi piace tanto delle piante che ti pendano così sulla testa, ovviamente insomma devi trovare un'altezza che è compatibile per la gente per passare eccetera, però devo un attimo considerare perché ovviamente se la pianta magari perde un pochettino di acqua ruggiata o cosa, se io stanno a un massaggio proprio qua sotto insomma non è bellissimo, quindi questa è una prima cosa da considerare e che ovviamente il faretto sta in alto e mi devo prendere una scatola a volte per dare l'acqua a queste piante, quindi non lo so cosa fare, salvo ovviamente appenderle di modo tale che arrivino comunque ad un'altezza fattibile che magari mi basta giusto un puff qua che è bello, insomma resistente, da massaggio ecco a un'altezza che mi bastano queste cose qui per poterle innaffiare, perché se no a volte devo portarmi la scala da sotto insomma non diventa fattibile, non ho tutto questo tempo da dedicare alle piante e a risestimare, quindi insomma deve essere un ambiente che è comunque vivibile anche, non vivo da sola, vivo con mio marito e tra l'altro anche i gatti insomma devono avere il loro spazio, quindi deve essere qualcosa di fattibile. Chi ha tante piante in casa sa di cosa sto parlando, se condividi i tuoi spazi con qualcun altro, è possibile che questo qualcun altro si lamenti anche perché non hanno più un tavolino libero da poterlo utilizzare perché tu ci hai messo 5-6 piante o 5-0-50-60 piante, niente, e quindi questa è una cosa da capire, però questi faretti lassù inutilizzati mi tentano perché sarebbe un ottimo modo insomma per togliermi da mezzo qualche pianta, la metto su se ha un'altezza fattibile che ci passi sotto, insomma non danno fastidio, sono anche carine da vedere appese, di luce ne prendono in abbondanza quindi anche per loro sarebbe buono, quindi questa è una prima cosa da considerare e quindi uno di quelli che potrebbe andare su, sto pensando è questa, che vedi adesso è bella lunga e quindi devo un attimo capire, lui si chiama Filodendro Micans, non li so i nomi in italiano, ma sarà qualcosa di simile, e vedi questo è bello di Filodendro perché ha le foglie che rimangono piccoline, a meno che se tu gli dai un bel supporto di legno, ci metti un bello stick qua, o quello che ti butto delle foglie che sono decisamente più grandi di queste, ovviamente della vera, che sono le buone condizioni di luce, di luce, di luce, di luce, di luce, di fertilizzante, eccetera, però può sicuramente buttarti foglie più grande, la cosa bella è che vedi un po' vellutino come tipo di pianta, penso si capisca, e ha questo colore proprio che a me piace un sacco, verde scuro, e la cosa però che bisogna considerare è che vedi come è il retro, cosa sarà, Burgundy, non lo so bene che colore, però praticamente che non è il retro mi piace, ma se tu lo vedi, adesso ovviamente sono nella parte buona della luce, ma se tu ti metti in un'altra luce, con la luce che praticamente li filtra come sono io, cioè come la sto guardando io adesso, perdi entrambi i colori, praticamente, quindi non hai più né lo scuro, il verdone così scuro, né il Burgundy, diventa un arancione o un verde marcio che non mi piace, e quindi questa è una cosa da considerare anche quando la vado a appendere, in che direzione mi va la luce, perché insomma la voglio nel suo splendore, e quindi devo considerare anche quella nella direzione in cui la metto, e però vedi quanto è lunga, e quindi insomma anche questo è da considerare, perché cioè vedi anche solo per dire che mi arrivi leggermente più in alto adesso, cioè non è fattibile avere sta roba, ti cammini per casa, ti si schianti così addosso, cioè per me sarebbe anche fattibile se vivessi da sola, però appunto già me lo sento mio marito, e in più appunto avendo quella gente che viene per massaggio, eccetera, va bene che lo sponsorizzo come una giungla da interno, come spazio, però insomma, da considerare, e quindi questo insomma è da capire, si potrebbe anche pensare di propagarla, questo è facile da propagare, l'ho già fatta praticamente, perché vedi com'è bella piena qua sopra, ma in realtà non era così, quando l'avevo comprata, c'erano giusto due pelucchi, e io cosa ho fatto? Mano a mano che cresceva la tagliavo da qua sotto, la mettevo in acqua, tu devi tagliare, ricordati dove c'è il nodino, vedi che si chiamano nodini, e potenzialmente ogni nodo, quindi vedi ogni 3 cm, potenzialmente tu hai una nuova pianta, io in realtà cosa avevo fatto? L'ho tagliato, tanto così se non anche di più, e li avevo messi in acqua, così avevo già una lunghezza con delle foglie, e poi una volta che la radice è venuta, dopo qualche settimana, o anche qualche mese, l'avevo qui ripartata da sopra, e adesso non so se ci sono ancora, forse sono riuscita a toglierle, ma per farlo stare, no non ne vedo più, non so che le ho tolte, per farlo stare dentro la terra, all'inizio, che comunque le radici ovviamente sono ancora piccoline, e anche corte, avevo messo le forcine per i capelli, presente quelle a becco d'oca, che ti metti così, nei capelli, ecco, le avevo messe qua, per tenere sotto, cioè come se facessi per farti capire, vedi queste parti qua più legnose, diciamo, ecco, avevo messo la forcina così, e lo tenevo nella terra, adesso poi le ho tolte, perché tanto era bella stabile, quindi era inutile tenerle lì, e quindi questa è un'altra cosa che potrei fare, mettendo così lunga, adesso mi potrei dare una bella accorciatina ai nostri capelli, e così lui si infoltisce ancora di più qua sopra, e avrei tutta questa parte qua, cioè potenzialmente qua ne ho di piante, se volessi, ne potrei mettere ancora qualcuna qua sopra, oppure fare una seconda pianta, ne ho due già belle lunghe, che è anche carina, che fa tipo da, sai, da tendina, se le metti una di fianco all'altra, quindi questa è potenzialmente un'altra idea da capire. Inizio a farmi queste idee qui, perché tra qualche giorno finalmente sono in vacanza, mi prendo qualche giorno libero, e cerco di fare video di yoga per tempo, e non le devo più fare, così le posso pubblicare una volta a settimana, ma io in realtà non le sto facendo tutte le settimane, perché ho proprio bisogno di fare un po' di pausa. Bene, quindi questo è un progetto, l'altro progetto bello che mi entusiasma, che mi prenderà un po' di tempo, e lui, o lei, la felce ha, in italiano come la chiami, corna ad alce, qualcosa del genere, lei, come puoi notare è abbastanza grande, guarda, sembra una farfallina, una feri, sì sì. Bene, e questa di felce, a differenza di tante altre felci che vedi in giro, che si vendono anche nei giardini, siccome è originaria dell'Australia e dell'Africa, resiste bene alla siccità. Adesso, poverina, questa ha decisamente bisogno di acqua, come potrei notare dalle povere fronde che sono lì, tipo, aiuta, alla fine di una maratona, quindi decisamente hanno bisogno di acqua, però resiste bene alla siccità, ed è per questo che la tengo in questa stanza, nonostante sia così calda. Però il progettino, vedi, adesso io l'ho, questo è ancora nel vaso in cui l'ho comprata, è cresciuta tantissimo, perché se le dà le connessioni buone questa cresce bella veloce, però quindi stava in un vaso, stava appesa, ogni tanto forse la potevi vedere anche nei video, scusa se ogni tanto ho questo sguardo un po' da così, ma perché ho la luce proprio qua davanti, e stava appesa, l'avevo messa comunque in un sottovaso nel caso in cui insomma dovesse scolare, ma stava appesa al muro, in uno di questi pendenti, adesso lo vedi vuoto, era in quello a fianco praticamente, e quindi sembrava così appesa al muro. Però il, sto guardando che c'è una ragnatela, mi vengono, ho sempre gli attacchi di panico quando inizio a vedere ragnatele cose, perché penso che ci siano, sai, i ragnetti quelli, quelli delle piante, non i ragni normali, i ragni normali non c'è problema, anzi, però i ragnetti quelli delle piante che dirassano la pianta, questo non buono, ma no, questa penso sia una ragnatela normale. Beh, il progettino, adesso lo vedi dietro di me, no, aspetta, mi tolgo, eccolo, quello a fare che sembra un tagliere appeso al muro, ti sei sicuro che non appendo il tagliere a un muro, quella roba lì voglio praticamente montarci la felce sopra. Cioè, cosa avviene? È presente i cacciatori che hanno le teste dell'alce o cosa, con le corna del cervo, appesa al muro, ecco, io da vegano ovviamente non metterei una cosa del genere, l'ho sempre provata tra l'altro di discutibile gusto, avere una roba morta. Comunque, invece io ci appendo la pianta, quindi il progettino che devo fare, secondo me mi richiederà un paio d'ore buone, anche perché non l'ho mai fatta, quindi devo un attimo capire, è di togliere la felce dal suo vaso, e questo dovrebbe essere abbastanza facile perché credo che abbia delle radici molto molto sottili, perché tu devi capire che questa felce, magari lo sai già, cresce in teoria sulle cortecce dell'albero, quindi quella stessa di tagliere di legno replica un po' la corteccia per lei, e praticamente quello che fa, questa non butta radici lunghe, si attacca su, le vedi queste, si vedono in camera, sì, vedi che ci sono queste qua che sono un po' più secche, marroncine, mano a mano si seccano, le puoi togliere se vuoi, ma in realtà conviene tenerle, e poi ne butta di nuove, vedi, di questi qua verdi, da cui poi da lì butta anche altre fronde di queste foglie, chiamiamole così, queste, adesso vedi come sono, te la faccio vedere anche da dietro che forse si capisce meglio, in realtà questa era la parte retrostante che stava più vicino al muro, vedi com'è, non voglio pacioccare tanto le fronde, non andrebbe tanto toccata, le fronde non andrebbero molto toccate, non le piace come cosa a questo tipo di felce, anche perché vedi che sembra pellusina, mi avvicino se mettesse a fuoco, per favore, non so se è a fuoco, però è tipo pellusina perché serve per schermarsi dal sole, posto che, insomma, è originario di posti abbastanza soleggiati, ecco, per non rovinarsi a questo pellusino, quindi ovviamente se viene maneggiata, se tu tocchi le fronde, questa roba si toglie, è un po' come la polverina delle albe, che non devi mai toccare perché altrimenti la farfalla non vola più. Bene, quindi cerchiamo di non maneggiarla lì, però vedi da dietro queste, praticamente cosa fanno? Se tu le attacchi appunto a un supporto come potrebbe essere la corta di un albero, adesso io uso quel tagliere che è bello squadrato, ma che se ne importa perché tanto poi lei la ricopre, praticamente queste foglie, chiamiamole così, qua la base da cui partono queste fronde, questa cosa qui si avviluppa tutta, cioè immaginati che questo sarà poi il suo supporto, questa gli si appiccica proprio così, tipo medusa, diciamo così, pom, e ti butta poi altre fronde, quindi potenzialmente questa, se riuscissi a fare questo progettino, mi cresce ancora di più. E per attaccarla praticamente cosa faccio? Io la tolgo da qua, toglierò tutta la terra che c'è, metto solo lo spagnus moss, che sarebbe un muschio, un pochettino lo vedi qua, però adesso è secco, perché ovviamente io non l'ho più lavata, però, fammi vedere se si vede, vedi questa, sì, tra le varie fronde un pochettino, vedi? Secchina, quello che non dovrebbe rimanere secco, è muschio, e quindi ci metto tutto quello, ci faccio tipo una pallina sul tagliere, ci metto quelle foglie con le fronde e l'avviluppo praticamente per tenerle insieme con, come si chiamerà in italiano, un filo metallizzato molto sottile e molto malleabile, che quindi praticamente non lo vedi, tra una cosa e l'altra, magari lo vedi proprio all'inizio e poi mano a mano insomma che si setta la pianta, non lo vedi più, ma è anche molto malleabile, proprio perché è così sottile e quindi puoi farcino vari giri, quindi questa è un po' l'idea e praticamente poi la piazzo lì e l'essa lì, e devo solo capire se effettivamente quello è uno spot ok, perché più o meno quello che sembra un tavolo, in realtà è il tavolo da massaggio, adesso qua, e più o meno questa è la location dove io faccio il massaggio, perché ben riparato, tiro le tende, non si vede dall'altra parte, quindi insomma c'è la privacy che ci serve, e tra l'altro non troppa luce, quando le tende sono tirate, e quindi va bene, e quindi devo solo capire effettivamente che poi io lì dietro c'è un po' di passaggio, perché ovviamente io mi muovo mentre faccio il massaggio, e quindi devo capire insomma che riesco a muovermi senza buttare giù le piante intanto, ma anche senza sfregarle tutto il tempo, in generale le piante non piace tanto quando ci passi così vicino, alcune perché appunto hanno queste foglie particolari che o gli serve come protezione contro il sole, o per trattenere l'umidità, insomma hanno vari sistemi di difesa, e quindi insomma non gli piace tanto essere pasticciati, e spesso rispondono con il maturare praticamente delle macchie, diciamo marroni, che seccano praticamente, oppure spezzando, insomma rovini proprio la foglia, quindi anche a seconda della pianta, magari non ti fa piacere avere quel look, e quindi insomma devo capire se effettivamente lì vedi dove c'è sto tagliere è buono come altezza, perché io adesso mi metto vicina, perché ovviamente dalla camera non si capisce bene, però vedi, cioè io con la testa sono già qua, quindi devo un attimo capire. Il look finale diciamo di questo progettino sarà qualcosa che è così, più o meno. Devo anche capire ovviamente perché questo, come sapete voi che mi seguite per yoga, è lo spazio che io utilizzo per yoga, cioè proprio questo muro con questo angolo qua, perché l'unico che ho un po' vuoto è con appunto lo spazio bianco dietro, che va bene per i video, e quindi ovviamente ogni tanto mi vedete a seconda della pianta che c'è lì, ogni tanto mi vedete che cerco di fare, no? I miei saluti al sole, le cose, pum pum pum, do sempre un colpo a una, un colpo all'altra, quindi insomma un attimo da capire se effettivamente la posso piazzare lì, o se lì è magari meglio mettere qualcosa che occupa meno spazio, e lei la mette invece su questo muro, che adesso poi giro la telecamera e ti faccio vedere, quindi anche questo è da capire, però il progetto per lei è sicuramente di montarla su quella roba lì e fare tipo trofeo, diciamo, di pianta, e così lei starà molto meglio, cioè non è solo per l'estetica, perché cambia ben poco da come l'avevo piazzata prima, però è proprio per lei per crescere meglio, l'ho vista proprio anche di recente al giardino botanico in Galles, è proprio un'altra cosa, cioè queste foglie che vedi qua alle basi, come diventano grandi e verdi, cioè si vede proprio che sta meglio, quindi è da fare. Poi finalmente occupiamoci dell'elefante in questa stanza, che è lei. Questo è un filodendro, forse dovrei spostare un pochettino il tavolo, filodendro red empress, quindi si chiamerà filodendro imperatrice rossa, qualcosa del genere, dal non confondersi con il filodendro red congo, sono molto simili, sia come colore che fogliame, però il red congo viene ancora più grosso, cioè già questo insomma ce n'è, e quindi meno male che non ho l'altro, che tra l'altro è anche più caro. Questa l'ho già tagliata nei due anni e mezzo che l'ho comprata, l'ho già tagliata, cioè l'ammontare di foglie che io ho tagliato da questa pianta è pari a quelle che tu vedi adesso su questa pianta. Ho dovuto assolutamente tagliare tutte quelle che te la sposto un po' indietro, vedi fino dove arriva adesso, non so se si vede in realtà, in basso, perché poi iniziano a fare così, siccome io non gli ho dato nessun supporto, le sta facendo questo, ho dovuto tagliarle per forza perché mi stavano toccando terra, ma le queglie che avevo più in basso, che erano quelle più vecchie, non scherzo, erano lunghe così, cioè dalla mia testa alle mie anche, e quindi insomma cresce abbastanza velocemente, soprattutto in questa stagione, ma devo dirti che forse per le condizioni climatiche di questa stanza, lei continua a buttare qualche foglia anche in inverno, con molta più lentezza e calma rispetto al periodo di crescita ovviamente, ma butta. E vedi, te la faccio vedere da questo lato, si vede? Vedi, vedi, lei parte, c'è le foglie, poi partono da lì, anche lei devo aggiustare un po' con l'acqua, e qua sta buttando, vedi, quelle nuove, questa, questa, e queste sono, non sono le radici, queste sono praticamente, vedi, dove c'è la foglia che parte, se tu le tagli, ancora più vicine, e fammi fare così, ecco, bene, praticamente, non so se vedi che questi, che io chiamo occhietti, queste cosine un po' valeggianti, diciamo così, queste dove stava, vedi, eccolo qua, dove stanno l'attaccatura delle foglie che io ho tagliato, che poi seccano, io le taglio, le taglio quasi alla base, ma il pezzettino che rimane lo lascio, vedi, secca, quando poi secco lo rimuovo, vedi, queste sono le, tra le ultime fogliette che ho staccato, vedi, le taglio, le lascio seccare l'altro pezzettino e poi lo tolgo, e lì si formano nuovi occhietti, quindi questa roba qua che vedi, che sembra un tubero, in realtà nient'altro è che dove c'erano mano a mano le foglie, quindi se tu compri queste piante, penso un po' tutti i filo, no, beh, non tutti, però questi tipi di filodendro, e quando tu li compri i giovanili, non la vedi questa roba qua a forma di tubero, perché vedi solo gli stemmini così, direttamente dalla terra, e quindi ti dici, no, ma io voglio quella specie lì, ma è la stessa specie, è solo che gli devi dare il tempo ovviamente di crescere. Questa peraltro aveva ancora un'altra di queste, di parte iniziale, diciamo, solo che, vedi che adesso questa sta facendo lo stesso scherzo, diventano così pesanti dall'altra parte, vedi, questo è sempre l'altro pezzo di foglia che ho tagliato, diventano talmente pesanti, siccome io qua non gli ho dato nessun supporto per stare su, che le radici mano a mano si staccano, peraltro non so se hai notato che non è in terra, ma è in pietra vulcanica, non c'è terra per niente in questa pianta, c'è questo, e può stare tra l'altro con acqua anche a mollo, diciamo, e quindi le radici stavano staccando e la pianta, quella parte specifica della pianta stava proprio patendo, quindi io cosa ho fatto? Ho detto, vabbè, la taglio del tutto quella parte lì e la propago, non è stato successo, diciamo solo così, e quindi niente, e adesso quindi devo fare sicuramente qualcosa perché da questa parte poi si capisce proprio come sta poverino cadendo dall'altra parte, quindi devo un attimo capire cosa voglio fare, sedarli magari appunto un bello stick qua, un supporto di modo tale che la tiro su e la faccio stare un po' più su, devo tirarla un po' così, adesso vediamo, non voglio maneggerla troppo perché le radici sennò si spezzano qua un attimo, quindi quello ho quello da capire, ma l'altra cosa che devo capire è che forse anche per come la forma che ha adesso sta diventando troppo, troppo pesante per il supporto dove è adesso, che se mi fai andare indietro te lo faccio vedere, si vede sì, è un tavolino, da questo lato è un tavolino proprio un po' delle balle, che era super economico, l'avevo comprato ancora quando stavamo a Berlino, però veramente è lì lì per cedere e se questa pianta così pesante con quel vaso che è altrettanto pesante cade, mi fa un solco in questo pavimento che è molto molto delicato purtroppo e quindi devo fare qualcosa se non voglio pagare un mutuo per farglielo riparare ai proprietari, quindi devo procedere a qualcosa, pensavo che anzi che comprare semplicemente un tavolino più robusto, mi comprerò un vaso direttamente alto perché non posso, anche che tiro su questa pianta, che ci metto un supporto e tiro sulla pianta e quindi la faccio crescere un po' più in altezza, che mi occupa magari anche un po' meno spazio, la pianta comunque tenderà un pochettino ad espandersi in questo modo e quindi comunque mi serve che sia elevata da terra, non c'è soluzione, se la tengo a terra avrà sempre un sacco di foglie che sono piegate così a terra, non va bene, quindi deve sicuramente essere comunque un pochettino elevata e quindi tanto vale, a questo punto mi comprerò messa un vaso di quegli alti, ma pesanti, qualche materiale, cemento, una cosa così, comunque qualcosa che sia alto e pesante da supportare il peso di questa pianta qua e la piazza sempre su questo supporto mobile che da qua tu non vedi, però vedi che la sto spostando così perché è su una specie di carrellino, però il vaso è da comprare, sarà un bel investimento perché quei vasi lì costano un sacco, però d'altro non è meglio spenderli lì che dare poi appunto magari mille euro ai proprietari per rifarsi il pavimento perché questa casca, siccome questo tavolino non la tiene più, quindi questa pianta qua sicuramente c'è questa cosa qua, il vaso da comprare assolutamente e non penso di travasarla, penso però di darle sì un supporto, uno stick che è solo da capire come caspita lo inserisco proprio perché non è terra ma sono pietruzze vulcaniche non ho idea di come farci passare uno stick, non è che basta che faccio così come con la terra e lo inserisci, quindi è un attimo da capire, mi sa che me la dovrò purtroppo togliere tutta e poi mettere lo stick e mettere di nuovo, riassemblarla, cosa che se riesco vorrei evitare perché meno tocchi le radici e più la pianta è contenta, quindi questo è da capire e mi sa che come posizione però la dovrò sempre tenere lì, tanto sul carrellino mobile quindi me l'aggiusto però non ho, perché è proprio grande, adesso da lì magari non sembra ma occupa proprio tanto tanto spazio, cioè vedi e quindi non ho un altro spazio dove metterla, l'unico altro spazio dove siete voi, dove c'è la videocamera ma prenderebbe troppa luce diretta ci ho provato già e non ci sono già più quelle foglie lì perché per fortuna erano proprio all'inizio quando ce l'avevo e quindi le ho tagliate già ma me le ha tutte bucate se quando leggi magari o comunque ti dicono non mettere questa pianta a contatto diretto dei raggi del sole e adesso ho capito perché un conto è magari l'acqua ogni tanto un pochettino di luce gli arriva, di raggi solari ma c'è comunque un bel po' di metro insomma a distanza dalla finestra, in conto invece sarei proprio sulla finestra che ti fa tipo effetto lente di ingrandimento, ecco lì era stata dell'eteria, mi aveva proprio letteralmente bucato, vedevi proprio iniziare a vedere delle tipo macchiette, rosso marroncino così e a un certo punto cioè è diventato proprio un buco, ci passavi uno sussicadente e quella era proprio la luce solare quindi non rifaccio di sicuro questo errore e però lì sarebbe l'unico altro spazio così grossa come me non ho molti altri spazi nella casa dove andarla a mettere quindi mi sa che quella è destinata a stare lì, per fortuna è sul carrellino quindi la posso spostare però è così, bene l'altra cosa da capire sempre qui mentre ci stiamo è quest'altro tipo di filodendro fammelo girare così lo vedi meglio, lui, avviciniamoci pure, lui, quest'altro filodendro qui è sempre da capire lui non era qua, l'ho iniziato a mettere ieri sera perché quando è che inizi a riorganizzare con le piante se non dopo cena, genio e quindi questo niente da capire, te lo faccio vedere tra l'altro così lui è giovane, l'ho comprato ancora più giovane a niente vedi, adesso inizia a fare questa cosa che io chiamo tipo i tuberi con gli occhietti perché qui è di nuovo dove io ho tagliato le fogliette però prima che questo non c'era, proprio quando io l'ho comprato e niente, vedi solo così il pezzettino verde e quindi quelli che vengono, che dicono, guardano l'altro che bello, con questa cosa a forma di tubero e sì, se la compri che è più grande, più anziana oppure se hai la pazienza e la costanza di farti crescere queste qua più giovani e diventano così e questa è da capire perché lei anche diventa bella grossa come puoi già notare e anche questa tagliata, insomma, come puoi molto notare svariate volte e anche lei si espande però, capito, per accespugli, diciamo, per larghezza è arrivata anche Fibi, fatemi vedere Fibi facciamo l'inquadrare è venuta a fare un controllino anche lei e quindi si espande pure lei in larghezza e quindi pure lei, devo capire dove andarla a piazzare ho visto che c'è qualcuno che la appende al soffitto e se la tiene tipo lampadario quindi si espande ma chi se ne importa perché è un tosto in alto e il problema è che a me non piace tanto così perché è una cosa che io faccio sempre attenzione e secondo me in tanti che sono infognati con le piante fanno lo stesso io guardo anche come metto nel senso della posizione della pianta come è orientata di modo tale da poterne usufruire della sua bellezza al massimo possibile nel senso che questa pianta, cioè, di bello ha o una volta che è un po' più grande il fatto che ha questa cosa tipo tubero, diciamo che però adesso non è ancora il suo caso perché è troppo giovane o le sue foglie, no? che tra l'altro mano a mano che questa diventa più anziana queste foglie diventano molto più grande e molto più, come si dice, frassagliate, diciamo adesso sembra quasi una mano poi mano a mano diventeranno proprio tipo le mani quelle Stranger Things se hai visto Stranger Things e il nuovo Becna ecco, quelle diventano molto più così, più sottili e più frassagliate però appunto si espande a modi cespuglio e quindi occupa spazio e se la vuoi ammirare le foglie le devi averla più o meno in questo orientamento cioè al massimo a questa altezza però vedi anche girata guarda come cambia già se io te la metto così ha un altro look e ovviamente se pende dall'alto capito, ce l'avresti tipo così adesso vabbè, non contare il vaso ovviamente che sarebbe da coprire però vedresti così cioè, vabbè, magari a chi piace per carità, però io preferisco questo tipo di orientamento in modo tale da poter vedere le foglie e quindi questa in realtà sarebbe una posizione ideale anche per il tipo di luce, eccetera però è di nuovo un po' in mezzo cioè se io dovevo qui in teoria è dove io mi appoggiavo per dare i massaggi quando inizio a tirare il collo, eccetera io mi appoggio al muro e tiro e quindi devo un attimo capire come mi sistemo se riesco ad avere un altro spot lì in mezzo praticamente a questo filo dentro lasciarlo qua e quando monto invece questa felce lì se riesco a stare lì in mezzo potrebbe essere anche una soluzione lasciare appunto il filo dentro quello grosso, rosso che ti ho fatto vedere un attimo fa lasciarlo lì e quindi loro tre praticamente stanno qua e il filo dentro quello invece ha vigna diciamo micans quello lungo questo che ho qua sul tavolo vedere di appendolo dal soffitto però magari accorciandolo tagliandolo, propagandolo facendone due così mi viene tipo lampadario simmetrico potrebbe essere anche carino e quindi questo mi lascia con questi spazi qua aspetta che ti giro uno e due uno è quello dove adesso vedi il macramé vuoto con quella cosa lì di legno che volendo sono due cose separate quindi le posso utilizzare in maniera diversa e se viene in camera c'è un chiodino lì e quindi lì potenzialmente un altro macramé che ho con un'altra pianta quindi lì è da capire è ottimamente esposto bella posizione anche proprio per per ammirare le piante come luce diciamo e quindi è da capire cosa ci metto prende un pochettino di luce diretta la mattina per cui un po' tutte le piante qua mi vanno bene insomma sicuramente se metto qualcosa che pende non c'è molto spazio qui perché ho la tv e quindi noi in realtà la tv non la usiamo mai però la uso per esempio ci metto magari uno screensaver carino o il finto caminetto l'avete visto ogni tanto anche nei video di yoga per quando viene gente qua a casa oppure se ci sono degli ospiti quando noi siamo via che sono qui a guardare i gatti e le piante loro magari si guardano la tv Netflix eccetera e qui niente in ogni caso la tv neanche la posso spostare e quindi è da capire posso mettere qualcosa sì che pende ma comunque insomma che poi arriva qua altrimenti un'altra opzione che stavo pensando sempre anche per il filodendro micans o altri filodendro di questi qua non si chiamano vigne come si chiamano perché vigne la traduzco dall'inglese vine ma non è vigna mi sa in italiano quando insomma ti pendono piante pendenti cascanti ecco l'altra opzione è che la metto qua ma la faccio arrampicare su non sul muro perché non posso ovviamente farci crescere le radici e infatti ho una pianta sotto l'ho beccata in tempo che mi stava sfasciando il muro e di nuovo non è casa mia quindi non lo posso fare altrimenti qua sarebbe una giungla proprio e invece quello che però potrei fare è praticamente utilizzando un cordino piccolo si chiama air layering quindi livellare la pianta ad aria tu metti un cordino sottile cioè ben più sottile di questo l'attacchi dove vuoi che insomma la pianta vada e io ho sempre questi faretti qua sopra di me quindi potrei mettere questo cordino che va lì e fare praticamente seguire la pianta le fronde tutte su che vanno verso il verso il soffitto solo che onestamente non so se poi mi piace sto look perché ti faccio vedere io ho fatto una roba simile utilizzando quello che ho da questo lato ecco intanto ti faccio vedere che c'è anche Giulio qua sul sul divano ciao Giulio anche lui è a caldo poverino ecco vedi quello è un fotos potos come si pronuncia la potos potos dorato che in realtà con tutta la luce che sta ricevendo è tricolore perché è anche bianco è bianco giallo e verde con differente gradazione di verde bello e vedi adesso appunto l'ho messo un po' così però non lo so cioè lì non mi dà fastidio perché tanto sta lì dietro lì dietro non ci passiamo mai per cui tutto sommato tutto sommato bene non dà fastidio anche alla vista insomma uso raramente questa inquadratura comunque anche per i video per cui va bene non so invece là dove appunto c'è più passaggio c'è più proprio anche sguardi insomma non anche per voi quando guardate i video di yoga ho paura che questi 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 così pendenti siano proprio un po' un pugno in un occhio insomma che uno diano fastidio proprio per chi segue per esempio il video di youtube insomma questa roba che pende magari non è il massimo nell'inquadratura preferisco un look un po' più pulito un po' più chiaro ma poi anche il fatto che non so mi sembra che poi diventa un po' troppo un po' troppo paciocco e a me piace l'effetto giungla per carità però posto che qui in questa stanza in particolare io l'effetto giungla comunque non lo posso fare perché non posso riempirmi di piante perché ho bisogno dello spazio per poter lavorare verrebbe più una roba una via di mezzo cioè avresti sì delle piante e poi avresti queste cose tipo liane che pendono e sembra boh proprio appunto una via di mezzo che mi sembra che faccia più casino che altro più caos e quindi preferisco in realtà che almeno quell'angolo lì dove appunto lavoro sia un po' più un look un po' più chiaro un po' più definito senza troppe robe così che vanno a destra e a sinistra perché ovviamente è un look diverso cioè immaginati questo photosquee ti faccio vedere perché vengono tutte dalla stessa pianta tu vedi questa qua dietro ti faccio vedere tutte le altre che ho propagato e ti faccio vedere com'è diverso il look se riesco a portare la camera eccole si vede penso di sì più o meno vedi tutte queste qua adesso vedo se riesco te le faccio a vedere da lì davanti però qua ci sono tutte delle scaffalature questa probabilmente era intesa da utilizzare come libreria ma io i libri ce l'ho da un'altra parte e quindi come sto facendo questo muro diciamo di piante che sono ancora indecise se mantenere così adesso è bello ordinato perché sono tutti potos tutti quanti qua tutti sempre dalla stessa pianta che ho propagato alcuni sono sono in acqua ancora addirittura e gli altri sono in terra in acqua ti voglio dire te lo faccio vedere dove ce l'ho questa che tra l'altro è da mettere infatti c'è questa in acqua capito vedi non c'è la terra però e vedi anche quello che ti dicevo che ha veramente un sacco di colori guarda questa che foglia che figata che mi ha fatto il bianchino così e qua tra l'altro non prendono neanche tantissimissima luce in questo spot adesso sembra abbastanza chiaro insomma nell'inquadratura ma perché io qua non ho altre finestre c'è una finestrona lì dietro di voi praticamente e poi quelle che vedi di là ma quelle vedi come sono lontane e però stanno andando alla grande e però vedi è proprio un altro look aspetta se riesco a portarti possibile che debba probabilmente viene un po' meno luminoso adesso ragazzi però ho dovuto staccare la presa ecco vedi come è davanti cioè è ovvio che è un altro look così rispetto al caos vicino al camino che ti ho fatto vedere rispetto a questo vi starà venendo il mal di mare oggi però fammi riattaccare la videocamera però ho capito devo un attimo capire cosa voglio fare e anche lì in quel muro in questo muro dove ci sono i photos è da capire se voglio ottenere l'oro o utilizzarlo per altri per altre piante che ho di là sempre tipo filodendro e che cosa monstere eccetera che adesso sono in uno spazio siccome il sole qua gira ogni stagione comunque le piante le devo spostare e il problema è che adesso ho questi filodendro e monstera dall'altra parte dove stanno prendendo troppa luce troppo sole troppa luce e stanno crescendo per carità però secondo me potrebbero fare meglio se riuscissi a portarmene più di qua e quindi stavo pensando magari quello spot almeno adesso che c'è ancora comunque tanta luce fino a tardi soprattutto qua rispetto all'Italia potrebbe essere un'idea fare quel muro di piante nella scaffalatura dei libri però mettendoci appunto i filodendro eccetera sono indecisa perché mi piace come l'ho fatto adesso perché è tutta la stessa pianta la specie sono tutti i potos in bambini tutti bianchi quindi comunque proprio un look secondo me pulito che mi piace se inizio a metterci e la monstera perù e la monstera minima e piccoli come si chiamano propagazioni insomma della monstera quella deliziosa e che cos'altro o fammi vedere che non ti porto di là o la monstera danzoni e poi ne ho qualcun'altro insomma di questo però già adesso così contando a memoria ne ho quattro ma ne ho sicuramente almeno cinque o sei di questi tipi e sono tutti diversi non lo so se poi il look mi piace devo un attimo capire e quindi li è da capire e poi giriamo sempre sto cercando di organizzare questa stanza adesso mi vedete buissima perché giustamente prende la luce da fuori porta pazienza e qui vedi su questo ripianetto prendono un sacco di luce e anche di sole diretto per abbastanza ore nella mattina devo capire un attimo cosa voglio metterci qui c'è un bonsai di ficus vabbè è buissimo però si capisce che è proprio carino che sta andando alla grande lui va bene qua perché comunque come temperatura luce eccetera gli sta bene e lui anche in realtà si chiama money tree l'albero dei soldi e lui sta buttando anche un sacco in teoria se tu continui a intrecciare i rametti che ti butta nuovi verdi tu continui ad avere questo tipo di tronco ma chi è che ha la potenza di farlo e però lui qui per esempio oramai è troppo grande perché anche lui si espande a fronte a meno che non lo taglie io lo stavo tutto tagliando poi ho detto poverino mi spiace facciamo andare e quindi questo qua inizia a essere capito che sporge troppo non va bene su questa superficie così piccola deve avere più spazio e tra l'altro tu considera che io la vedi la tenda lì nell'angolo questa tenda io praticamente tutti i giorni la devo spostare non per noi perché non usiamo mai la tende qua però per quando vengono quelle per il massaggio e quindi avere una roba ovviamente che qua sta di mezzo ogni volta che rischio di buttarla giù non è il massimo quindi anche lì devo cambiare qualcosa l'altra piantina che vedete qua te la metto più vicina è un'oia che ha ancora qualche fiore ne ha messi un sacco non vedi sono adesso ormai secchi ma si perde di tutti e vai tanto devo pulire vabbè e ha dei fiori che sono proprio carini però adesso non ne ha più questa o le altre sotto che sono ancora in fiore fiori che propuzza non devo dirti anzi che profumare vabbè però è proprio bella carina vedi che c'è una bella luce brava telecamera vedi è particolare è questa di queste che pende e in realtà a me qua questa non dispiace perché c'è il muro poi bianco adesso non so se si capisce che è bianco però col muro bianco è carino insomma che lei penda così verde quindi quella è forse l'unica che lascio lì ma le altre devo un attimo capire cosa voglio fare e poi questo mostro che vedi qua sempre con questa luce è pessima però vabbè ci accontentiamo chissà se io vengo più vicino se lui cambia no vero così sarebbe buono se tenesse questa ecco di luce tienimi quella mannaccia tia ecco brava questa sterlizia una delle o anche uccello del paradiso bird of paradise lei anche ha un po' non mi diventare buio se è chiaro deve deve subire un come dire un facelifting devo farci qualche cosa e sta andando bene ha sofferto di vari tipi di parassiti poverina quindi ovviamente ha dovuto tagliare alla alla grande ma si sta repigliando ma senti ma se mi giro in questo modo scusa che ti faccio venire il mar di mare oggi però ecco ecco no meglio sembra dai allora lei ho dovuto tagliarla per i vari parassiti che si è beccata però sta buttando il problema è che vedi che sta andando un po' da tutte le parti ce lo vedi anche solo così da quello che riesce a vedere e si c'è un manico di scopa perché non avevo nessun altro supporto in cui metterla e quindi anche qua appunto voglio cambiare un attimo le cose perché ovviamente sta roba fa proprio pena cioè non si può vedere e allora quello che faccio è che ho un questo cordino intanto per mascherare la cosa qua della scopa e quindi ce lo arrotolo tutto intorno e quella è una cosa già che un pochettino fa e poi stavo pensando siccome questo in ogni caso la devo mettere da un'altra parte questa è un'alocasia che vedi re del drago o qualcosa del genere si chiama alocasia drago o qualcosa di quelle che dietro è rossa sì perché queste sono le mie piante preferite colore scuro con il rossino e vedi questa poverina sta andando anche da tutte le parti perché in natura queste come crescono praticamente da qua dietro questa parte qua dietro loro si attaccano alla corteccia delle piante e crescono non così ma crescono vedi come è messa la pianta cioè tu la foglia come la guarderesti diresti che questo è il verso giusto no in natura crescono più così più in orizzontale che in verticale e si attaccano tutto così e si fanno la corteccia o il muro insomma secondo di dove cresce e quindi pensavo di sfruttare questa loro proprietà per farla crescere la pianto insieme alla sterlizia devo avere un vaso ovviamente un po' più grosso però la pianto lì e adesso è piccoletta vedi non è che sia molto grande ma proprio perché sta crescendo poco sta buttando un sacco di foglie ma cresce poco perché non le sto dando nessun supporto cioè è sempre stata qua dentro quindi la limitiamo in questo modo però invece diamo lei il go lì via e la faccio appunto arrampicare su questo supporto qui probabilmente questo non è sufficiente in realtà per lei e quindi ci metterò qualcos'altro tipo una come si chiama una shell un ripiano mi ho trovati ai bidoni dell'immondizio l'altro giorno qualcuno che ha buttato una scaffalatura che probabilmente si era rotta non so bene comunque io mi sono andata a raccattare tutti i ripiani di legno che ho trovato e poi in giro qua vicino c'è una una specie di chiamiamola falegna meridia termina un po' così comunque c'è una una tizia che lavora il legno e quindi la gente va a buttarle lì così qualsiasi cosa di legno e poi lei insomma utilizza quello che utilizza per fortuna lì vicino c'è la piastra quindi quello che non utilizza è comoda buttarlo lei e quindi io ogni tanto passo mi prendo qualche corteccia qualche cosa per i miei progetti e quindi insomma magari questa scopa qui in realtà o va via del tutto o viene coperta comunque in qualche modo così mi posso far crescere anche la locasia insieme perché così proprio la la sterlizia insomma diventa un po' più piena perché anche quando inizia ad avere più più foglie adesso te la faccio vedere se riesco un po' più da distante com'è cioè se ti dicessi il delirio di cavi che non c'è qua si spaventi comunque è abbastanza alta già perché queste crescono anche ben veloci se tu gli dai possibilità però anche una volta che ha tante foglie adesso inizia ad aprirsi questa c'è un'altra sotto più quella lì quindi inizia ad essere se vuoi un po' più piena è comunque una pianta che non è piena come un filo dentro che ne ha tantissime rimane comunque questo look che va in alto e comunque la devi sempre mettere con qualche supporto perché altrimenti inizia a penderti da una parte e quindi il supporto comunque glielo devo mettere e appunto non rimane ben piena a meno che tu metti il supporto e immaginati che inizi a legarci tutte le foglie guarda c'è già solo se faccio una cosa oh no ecco ho rotto la punta della nuova foglia vabbè sempre così tanto e vedi se io inizio a legarle qua insieme ti fa un look già più pieno però non credo che ci ho provato non mi aveva entusiasmato più di tanto e poverina mi dispiace che gli ho rotto proprio la punta di questa foglia ma la lascio così non importa perché una delle cose belle proprio di questa pianta qui e che poi ti fa questi taglietti mano a mano che invecchia che prende il sole che uno ci passa vicino eccetera anche se le vedi in natura sono tutte frastagliate vedi anche tipo questa così che sono tutte frastagliate se tu le vedi anche nelle foto insomma di gente che ha vivai e così via tendenzialmente le foglie di questa pianta qua sono tutte frastagliate è un po' il bello anche di questa pianta qua e quindi c'è anche questo progettino insomma da fare e poi ecco adesso metto a sto lato così la luce migliore sulle piante l'altra cosa ancora laggiù dove c'è il potos gigante il mostro ci sono due piantine non so se si capisce però sul caminetto che devo capire cosa fare una è il peperomia e da capire perché per adesso c'è ancora abbastanza luce e quindi lì va bene ma sicuramente poi quando inizia a essere ottobre è da cambiare perché ci sarebbe troppo poca luce per quella pianta lì e quindi devo capire se la voglio mettere da qualche altra parte sta prendendo una forma strana molto carina per cui andrebbe bene anche a peso che fa tipo lampadadi o Ikea proprio carino quindi è da capire e poi nell'angolo secondo me non lo capite però adesso provo a indicarvela c'è ancora un'altra sterlizia è un'altra specie però è la specie si chiama regina mi sembra sterlizia regina una cosa del genere perché una è Nicolai e l'altra è regina sono varie specie anche il fiore una è tipo arancione e viola l'altra è bianco insomma in ogni caso quell'altra è diversa perché non viene alta così e con poche diciamo frondine ma viene bella piena viene più a cispuglio ovviamente in entrambi i casi se tu la propaghi o compri semplicemente altre piante e te le pianti tutte insieme è chiaro che avrai più steli no? perché tu considera che la sterlizia ha sempre due parte sempre da due praticamente fa così si divide in due e poi da queste qui una delle due cresce e basta come foglie l'altra si divide a sua volta e fa una nuova foglia e sono tutte così quindi se tu parti solo con un bulbetto diciamo puoi avere fino a un certo numero insomma di foglie e di grandezza in totale della pianta questa che tu vedi dietro di me per esempio ne ha tre di queste cosine a B ti faccio un attimo uno zoom se riesco nel senso che ti porto proprio con me spero che si capisca che tu le possa vedere vedi questa è una che sta partendo e ha le due foglie di qui poi viene dentro questa una continua solo come foglia l'altra sta buttando e poi ne verrà un'altra poi c'è quella qua dietro che sta toccando la foglia questa è quella di mezzo che me ne è rimasta solo una di foglia e poi c'è il terzo tronchetto vedi che è questo che ha tutte queste altre foglie quindi immaginati qui io ne ho tre è chiaro che se io avessi che ne so 5-6 di questi tronchetti avrei molto più foglie e quindi il look sarebbe sicuramente molto più pieno e cosa da considerare insomma se vuoi se non sai bene cosa fartene nella tua Bird of Paradise basta che te ne compri spesso ci sono in offerta questa è un'altra cosa che stavo infatti pensando se compro il vaso più grande a questo punto tanto vale mi compro anche un'altra sterlizia di quelle piccole che costano niente c'è altrimenti 12 euro e che sarà sicuramente piccola ma va bene perché questa inizia ad essere già alta e ce la metto insieme e così mi dà un look un po' più un po' più folto se ti piace ovviamente perché c'è chi piace avere anche la cosa esile e a me su alcune piante piace il look così un po' più stelo una foglietta un po' più strutturale un po' più di design moderno ma non su questa pianta qua e quindi questa va va aggiustata e poi oddio c'è ancora una sempre ancora qua che devo capire cosa fare tu lo sai se segui i miei video di yoga che io ho una roba che sembra tipo una giara o un'urna te la porto qua così non facciamo tanti cambiamenti non ti faccio venire il mal di mare intanto parlo perché tanto mi senti ecco io ho una giara qua sempre dei propri taric però aiuto pesa un casino ed è anche semi rotta in realtà eccola qua la lasciamo qua anzi ecco vedi a cosa serve fare crossfit per spostare le cose qui fammi un po' vedere se si vede non si vede un'acca perché c'è perché c'è questa pianta enorme l'oia un'altra che la copre allora intanto lei appunto è un'altra da capire questa è un'altra oia si chiama zebrina mi sembra perché vedi come sono le fogliette bella eh e anche questa viola e questa anche l'ho propagata l'ho tagliata perché questa cresce anche di smisura mi fa fiori sempre tutti gli anni carini a tutto andare e adesso appena guarda lo vedi questa cosina qua aveva tutto il pollin cioè se io prendessi questi e sapessi cosa farle per farla per farla impollinare insomma avrei potenzialmente altre altre piante ma siccome non mi intendo con il polline eccetera anzi sono pure allergica la lasciamo lì e quindi questa è un'altra che devo capire cosa fare lei stava qui dove si è visto praticamente perché prendeva tantissima luce che le fa bene e anche un po' di sole diretto la mattina spesta che sta passando un camion com'è che passano su sta stradina con tutti i dossi e cose non lo so e si sarà sperso e quindi lei è da capire perché l'urna che adesso volevo farti vedere mi sono persa a parlare dell'oia zebrina ma l'urna ecco adesso un pochettino si vede dai fammelo mettere sul fondo bianco così che si capisce ancora di più la vedi si dai che si capisce molto molto carina se poi hai visto i miei video di yoga l'hai visto di sicuro già proprio bellina e mi piace più così che riesci a capire che è una jarra effettivamente che con la pianta dentro che si perde no perché nei video infatti forse la vedi più così cioè è comodissima devo dirti per questa per questa pianta qua che pende tutta da quella parte però poi non vedi più che la jarra e quindi ecco lì devo non so se lasciarla qui sempre per la questione di avere più spazio e quindi forse la jarra la devo spostare però col punto anche l'oia devo trovare uno spazietto buono magari appunto metterla lì all'altro muro sopra la televisione che ti dicevo che avrei questi due macramè vuoti al momento potrei magari piazzarla lì c'è sempre solo discorso che pure lei prende un bel po' di spazio perché adesso è diventata bella grossa e continua a crescere ed è anche pesante però vedi com'è cioè di larghezza guarda cioè è più larga di me capito quindi devo un attimo capire perché uno dice vabbè le metti su al muro e sì però ho un altro spazio quindi devo un attimo capire che effettivamente ce l'hai il suo spazio questa casa è grande però se hai tutte queste piante questa è anche l'altra questione per cui la gente vuole le piante grandi nel senso più anziane sin da subito ma tu devi capire che queste piante continuano a crescere ci sono poi alcune piante che diventano dei mostri sacri enormi enormi altre magari stanno un po' più contenute ma comunque crescono soprattutto se poi le tratti bene insomma le dai le condizioni giuste crescono quindi in realtà se hai un attimino di pollice verde io ti consiglierei di prenderle un po' più giovani e goderti insomma tutto il loro processo di crescita però insomma ti salvi anche dello spazio perché altrimenti deve avere proprio deve avere delle stanze vuote praticamente che non usi per niente cioè che ci passi e ti ammiri le piante e basta perché se hai delle stanze che ti servono per qualcosa che hanno una loro funzione fosse anche il salotto dove ti leggi il libro guardi la tv e ti sorseggi il tè con gli amici e devi un attimo avere lo spazio per avere il tavolino per il tè e il tavolino per la tv o il supporto insomma del braccio della tv al muro e lo spazio insomma per gli ospiti quindi e tu immagina ti ha maggior ragione se hai una camera da letto una cucina eccetera dove comunque hai delle hai bisogno dello spazio per le cose che utilizzi nella camera da letto nella cucina eccetera e sono cose da considerare sicuramente utilizzare i muri i supporti per farle cascare dal soffitto aiuta ti salva un po' di spazio ma comunque richiede che quel muro lì sta di con la pianta e che ti occupa un po' di spazio ovviamente soprattutto se la pianta inizia a espandersi capito di diametro di distanza dal muro lo stesso per il soffitto sì se hai soffitti di 5 metri e vabbè come quando vai nelle green house o nei vivai hanno questi soffitti giganteschi e vabbè grazie che possono avere queste piante cadenti che hanno magari anche le foglie lunghe 3-4 metri nessun problema tanto tu sotto ci passi tranquillo ma in una casa normale come quella in cui la maggior parte della gente vive che saranno 3 metri quando va bene che fai anche solo con l'altezza delle piante che ho io che è un'altezza media perché continuo a tagliarle cioè non ci passi più e tra l'altro se le attacchi al soffitto capisci non le puoi neanche mettere proprio così che la pianta la parte superiore della pianta parte da tanto così dal soffitto perché deve prendere la luce anche da lì non basta che la pianta prenda luce solo dalla parte finale delle foglie sto parlando di queste piante che cadono perché altrimenti quelle foglie là sotto ti vengono belle e continuano a buttarne però la parte sopra ti diventa sempre più legnosa nel senso che la parte tra la distanza tra te lo faccio vedere questo vedi cioè adesso questo sta buttando le foglie quindi si riempie per carità ma se non prendesse abbastanza luce quello che lei fa è che poi la distanza tra una foglia e la prossima è magari di 20 cm in cui hai solo questo questo gambettino così di legno capito e di nuovo c'è a chi piace inclusa la sottoscritta ma c'è a chi no e chi sembra oh ma la mia pianta non sta bene o cosa che poi non è vero spesso e volentieri è proprio il tipo di pianta che è così però sicuramente se non gli dai abbastanza luce questa è una cosa che ti andrà a fare si concentrano le foglie dove prende più luce e quindi se tu attacchi immaginati questa pianta qui al soffitto nel senso che la fai appendere da qui questa è la distanza che ha dal soffitto dove il mio mignolino è il soffitto e il pollice dove parte la pianta anche se sei in una stanza come questa che ho io che ha un sacco di luce questa parte qua sopra prenderà pochissima luce e quindi qua diventa spoglio e non è al massimo e quindi questa è un'altra cosa da considerare quando ti metti con le piante bene io mi fermo qua per oggi perché non puoi capire ne ho ne ho da organizzarmi e decido un attimo bene cosa fare magari se riesco a iniziare a fare anche qualche progettino prima di andare a insegnare yoga e poi vedo perché nei prossimi giorni fa di nuovo un caldo boia e quindi magari ne approfitto per raggiungere dei video nella mia rubrica di piante e andiamo avanti perché ci sono tutte le altre piante ancora da sistemare in tutte le altre stanze perché ne ho abbastanza ancora e poi vabbè quelle del giardino non ne parliamo un discorso totalmente a parte naturalmente non me ne occupo neanche quest'estate ci pensiamo poi al prossimo anno se saremo ancora qua ad Amsterdam bene passo e chiudo se ti è piaciuto questo video per favore metti gli like iscriviti al canale mi occupo ogni tanto anche delle piante di yoga meditazione come saprete e se hai dei consigli anche magari di cose che tu hai fatto per esempio con le piante che mi vorresti consigliare prendo tutto tutte le informazioni consigli idee prendo tutto in considerazione quindi butta lì e se hai dei link da mandarmi neanche nei commenti mandami la mail su Instagram mandami un DM insomma prendo tutto sono in questa fase in cui assorbo qualsiasi tipo di informazione e poi decido questo è il mio processo di ragionamento e ti auguro di stare bene fate attenzione so che fa molto caldo anche da voi mi raccomando rimanete all'ombra idratati prendetevi cura di voi e ci vediamo alla prossima ciao ciao